Angelina Mango Shock è successo durante la premiazione. Le telecamere, per fortuna, hanno ripreso tutto. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Le tre giurie di pubblico, sala stampa, tv, web e radio, hanno espresso il loro verdetto per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, tenendo milioni di spettatori con il fiato sospeso fino a tardanotte. Il trionfatore, annunciato con un entusiasmo palpabile, è proprio Angelina Mango. Sì, avete sentito bene. La figlia del leggendario Pino Mango ha conquistato il cuore del pubblico e della critica, ottenendo un incredibile 40% delle preferenze totali. Un trionfo indiscutibile che ha messo tutti d'accordo, tranne forse il 25% dei sostenitori di Joliet, che si sono visti sconfitti dalla maestria di Angelina. Ma la storia non finisce qui. Appena dopo la sua vittoria epica, qualcosa di inaspettato è accaduto. Le telecamere hanno catturato, oltre all'inaspettata caduta, un momento di pura emozione, quando Angelina, insieme alla madre Laura Valente, ha lasciato cadere alcune lacrime di gioia e incredulità. «Siete matti! Grazie di cuore!» ha gridato, mentre abbracciava il suo team e la sua famiglia. Parole che hanno toccato il cuore di tutti, lasciando spettatori e fan con un brivido lungo la schiena. È stato un momento indimenticabile, uno di quei rarissimi istanti che rimarranno incisi nella memoria di chiunque abbia avuto il privilegio di assistere alla magia del Festival di Sanremo. Angelina ha dimostrato che, anche dopo dieci anni dall'ultima vittoria di Arisa con controvento, una donna può ancora far vibrare le corde dell'anima del pubblico con la sua voce e il suo talento straordinario. Non ci sono davvero parole per descrivere l'emozione e l'orgoglio che tutti provano per questa incredibile artista. Complimenti, grande Angelina! Hai fatto la storia e hai conquistato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo!